Dopo la crescita registrata nei primi mesi dell'anno, a luglio 2019 la stima degli occupati risulta in lieve calo rispetto al mese precedente. Il tasso di occupazione passa al 59,1%, lo rileva l'Istat. L'occupazione risulta in leggera flessione per entrambe le componenti di genere, le persone in cerca di un'occupazione sono in aumento, la crescita riguarda entrambe le componenti di genere ed è distribuita in tutte le classi di età, ad eccezione dei 25-34 anni. Il tasso di disoccupazione arriva al 9,9%, mentre quello di inattività è invariato al 34,2%. Nel secondo trimestre del 2019 il prodotto interno lordo è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente ed è diminuito dello 0,1% nei confronti del secondo trimestre del 2018. E quanto stima l'Istat, secondo cui la variazione congiunturale del PIL, diffusa in occasione della stima preliminare del 31 luglio 2019, era risultata anch'essa pari a 0. In quell'occasione la variazione tendenziale risultava nulla. Il secondo trimestre del 2019 ha avuto una giornata lavorativa in più sia rispetto al trimestre precedente sia rispetto al secondo del 2018. la variazione acquisita per il 2019. Entro il 2050 la popolazione italiana potrebbe essere composta per la maggior parte da pensionati, ad affermarlo è l'Ox che sottolinea come entro la metà del secolo gli over 50 fuori dal mercato del lavoro saranno più dei lavoratori. Secondo le previsioni nel 2050 l'area Ox conterà 58 persone inattive o pensionate ogni 100, mentre in Italia al pari di paesi come Grecia e Polonia si rischia un rapporto di 1 a 1. Le denunce di infortunio presentate all'Inail entro lo scorso mese di luglio sono state 378.671, 62 in meno rispetto a quelle dei primi sette mesi del 2018. I dati rilevati al 31 luglio di ciascun anno evidenzano a livello nazionale un decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro e un incremento del 5,4% di quelli in itinere. Le denunce di incidente mortale sul lavoro presentate all'istituto entro il mese di luglio sono state 599, 12 in più rispetto ai primi sette mesi del 2018.